Come facilitare un clima di fiducia e di conoscenza nelle nostre classi? Come creare un'atmosfera che sia realmente inclusiva? Il gioco cooperativo è un valido strumento per realizzare tutto questo. In questo webinar ci soffermeremo sul valore del gioco come strumento educativo e in particolare del gioco collaborativo e cooperativo in una visione olistica. Vi presenterò alcuni giochi di conoscenza, di esplorazione, di contatto e poi anche di fiducia e di creatività. Presenterò alcune esperienze realizzate nelle classi proprio per creare questo clima inclusivo tra i nostri ragazzi. Chiaramente ci soffermeremo anche su alcuni elementi teorici che permettono di definire un gioco come cooperativo e alcune linee guida anche per poter progettare una sessione di giochi cooperativi a scuola.